monologo di toni servillo con riccardo scamarcio nel film loro due dove toni servillo interpreta la vita di silvio berlusconi senti sergio e vorrei organizzare una grande festa proprio qui e porta delle ragazze quante ragazze ai presidente ho 28 ragazze sono poche portane di più ah mi raccomando se porti le ragazze falle pure entrare con i telefonini ma mi raccomando che siano affidabili perché non voglio assolutamente che i filmati escano fuori da questa villa questa è una villa è una residenza di stato e poi falle venire senza trucco tacchi bassi perché noi non siamo alti pensa un po che l'altra volta sul sondaggio di playboy sono stato uno degli uomini politici più sexy d'italia e sono letteralmente assediato pensa che l'altra volta ha telefonato una tizia e mi ha detto presidente ma come devo fare per venire a letto con lei e gli ho detto prendo un appuntamento con la mia segretaria poi per quanto riguarda il cibo ho pensato a pizza e champagne va bene poi per quanto riguarda i gelati i gelati ci pensa Michele farà dei gelati artigianali e mi raccomando niente droghe perché non le tollero e adesso a Picella mi raccomando suona e cantaci suona che io canterò una canzone t'avis fatta nata quello che hai fatto a me come t'avessi accise e vuoi sapere perché perché in coppa sta terra femmina gomma a te non ce ne sta nata onesto come a me femmina femmina tu si una mala femmina si doce come zucchero lacrime e infamità femmina si peggio di una vipera femmina quanti occhi hai fatti ghiagnere quanti occhi hai fatti ghiagnere mi servono per campà femmina tu si una mala femmina si doce come zucchero la crema e infamità la crema e infamità femmina tu sia più bella femmina te voglio bene e t'odio non te posso scuda un saluto a tutti i miei amici follower mi raccomando iscrivetevi sul mio canale YouTube milord766 parola del vice premier Silvio Berlusconi un saluto